Io non uso molto spesso le autostrade, giusto qualche viaggio all'anno, ma tutte le volte che arrivo a quei caselli che fanno da barriera come Milano Sud e vedo quella fila di auto in attesa di pagare, sono felice di avere il Telepass. Però! Vengo quindi al nodo del video a base di sana polemica italica che vi state guardando. Qualche giorno addietro mi arriva una newsletter da parte di Telepass che mi triggerà oltre per ogni livello. Il testo, come potete vedere, è il seguente. In questo momento così difficile dove gli spostamenti sono limitati e in cui è necessario il massimo impegno per salvaguardare la salute di tutti, Telepass ti vuole essere vicina aiutandoti a muoverti in sicurezza. Cara Telepass, come ti ho già scritto su un Twitter durante il lockdown di marzo-aprile in cui tutti erano chiusi in casa forzosamente, se volevate veramente essere vicini ai vostri consumatori con spostamenti fortemente limitati, potevate sospendere il canone di servizio. Sarebbe stata una mossa da signori, pensate solo a tutto il ritorno di immagine che ha fatto YouPorn regalando agli italiani il servizio premium per quei mesi. C'è gente ora con un bicipite molto più sviluppato dell'altro. Molti altri grandi servizi, fra l'altro, hanno seguito l'esempio e regalato film, videogiochi abbonato, canoni di fruizione per un limitato periodo di tempo, ma voi no, giustamente avete dei dividendi da distribuire e con gli azionisti non si scherza. Prima di entrare nel vivo della discussione faccio però un respiro profondo e vi ricordo due cose due. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, commentate e condividete questo video, ne sarei felice. Se poi addirittura iniziassi a sostenere le mie attività online, tra cui ricordo il podcast di Fantascientificas, ne sarei incredibilmente grato. Come ho già detto in apertura, tagliare la coda al casello è un gran vantaggio. Mi sembrano secoli fa le fatiche che facevo a raggiungere le casse automatiche lanciandomi quasi fuori dal finestrino, ma un grande vantaggio è anche entrare in un parcheggio convenzionato senza dover ritirare il biglietto e fare la fila, o usare i contanti alla cassa automatica. Tutti i veri vantaggi per l'utenza, diciamo occasionale come la mia, finiscono però esattamente qui. A questo punto iniziano i vantaggi di Telepass. Ma quali sono questi vantaggi? Il canone è palese, vantaggio, un introito sicuro solo per poter sfruttare il servizio. Questo costo va da un minimo di 1,26 euro al mese, che sono 15,12 euro l'anno, non tantissimo certo, ma nemmeno poco, se sommati ai pedaggi non certo bassi delle autostrade. Ora, si potrebbe ribattere che per far funzionare un Telepass c'è bisogno di un'infrastruttura che ha un costo di manutenzione, ma mi pare doveroso far notare che non penso che se un parcheggio optasse per il sistema Telepass questo venga installato e mantenuto a costo zero. questo costo di installazione e disponibilità di servizio ricadrà quindi ovviamente sull'utilizzatore di tale parcheggio, tutti noi, un po' come succede per i POS nei negozi del resto. Rimango un attimo sui parcheggi. Lo sapete che normalmente se sono state un'ora e 54 minuti usando il biglietto potete pagare e uscire prolungando la sosta a due ore e quattro minuti senza aggiungere nulla al costo, ma se lo fate col Telepass, beh, a parte nel resoconto non è specificato il tempo di sosta effettivo, preparatevi a pagare la terza ora. Ritorno però al core business dei servizi, e cioè i pagamenti autostradali, i vantaggi delle autostrade che utilizzano il Telepass, che ora è interoperabile anche in Europa, sono soprattutto la tracciatura dell'utenza e della sua mobilità. Se ci pensate, i big data sono fondamentali oggigiorno e ci sono battaglie europee, come per Google o Amazon per esempio. Bene, sappiate che in questa cosa Telepass non è da meno. Poter analizzare nel dettaglio i big data è fondamentale e incredibilmente remunerativo perché il data mining fa capire all'azienda dove investire per massimizzare i profitti, fedelizzare l'utenza e allargare il mercato. Ma che altri vantaggi a Telepass a gestire i pagamenti nelle tratte autostradali? Beh, la possibilità di ridurre ancora di più la presenza umana al casello, il non dover trasportare il contante dai per i caselli, e quindi una manutenzione e presidio umano non così ampio. Però l'utente deve pagare un canone. Non approfondisco poi il discorso sull'uso delle varie app proprietarie che Telepass sta spingendo particolarmente. Queste raccolgono, offrendo servizi aggiuntivi di pagamento, una raccolta ancora maggiore di dati sull'utenza. Mi riferisco soprattutto a Telepass PayX, che è così voluta dalla stessa società che ti offre addirittura di azzerare il canone al Telepass per due anni. In questo caso le recensioni però parlano da sole. Per completare il discorso devo accennare al Telepass europeo. Sebbene sia interoperabile sulla struttura italiana, per poterlo avere devi richiedere il nuovo transponder e pagare ulteriori 6 euro una tantum. Infine devi pagare ben 2 euro e 40 centesimi quando in un mese lo usi almeno una volta nei paesi attualmente attivi, cioè Francia, Spagna e Portogallo. Un'ulteriore spesa aggiuntiva rispetto al pedaggio e al canone base. Inutile quindi dire che spero prima o poi intervenga l'autority a riguardo per regolamentare meglio quello che a mio avviso è a tutti gli effetti un servizio in un regime di monopolio di fatto. Un servizio che sia chiaro e utile e che sono ben felici di poter usare, anzi che spero venga proprio integrato nelle nuove auto come per esempio avviene in Giappone, così da eliminare del tutto il transponder attaccato al vetro dell'auto e il suo relativo costo. Con questo ho sversato l'ultima goccia di bille polemica. Se avete gradito il video condividete, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!